e ciao a tutti eccoci in questo nuovo video oggi siamo qua in questo video per un altro spacchettamento della raccolta calciatori panini dovremmo essere arrivati al tredicesimo episodio qui ci manca ancora un po' direi sto prendendo i pacchetti che cadono sempre siamo già a tre eccoli qui e prendiamo altri due eccoli qua sembrava uno vabbè presi andiamo qui con questi li mettiamo da parte direi che possiamo procedere subito vedermi nella prossima inquadratura bene eccoci nella nuova inquadratura abbiamo qua i nostri cinque bei pacchetti direi subito di procedere all'apertura ecco qua il primo ho scelto questo lo apriamo un attimo si è aperto male e vediamo un po' ecco fatto ce l'ho fatta non riuscivo a aprirlo praticamente e abbiamo diavara che non ho del napoli danilo a doppione abbiamo rafael che invece pure questo sia doppione e quindi lo mettiamo qui sempre abbiamo che sfortuna però abbiamo subito una carta speciale che è gasperini l'allenatore dell'atalanta bene subito carta speciale per noi e tre giocatori dello spezia procediamo con il secondo pacchetto abbiamo visto già carta speciale per noi poi troviamo ciao mario che è a doppione dell'inter gustavson del torino che non è a doppione invece pavlovice oppure questo mi sembra che è nuovo ed è del crotone poi abbiamo che sfortuna tre giocatori del venezia e anche lo stadio dell'atalanta che questo no no stadio atleti azzurri d'italia quindi anche un nuovo stadio per noi andiamo con procediamo con il terzo pacchetto troviamo Calabria del Milan che non ho anche Caleion che fa parte del triente e Napoli che non ho poi abbiamo Brignoli questo pure non ce l'ho abbiamo la carta che sfortuna un altro stadio ancora questo della Roma e non ce l'ho e poi abbiamo anche lo scudetto del Genoa che anche questo mi sembra che non ce l'ho quindi ancora uno scudetto per noi procediamo con il quarto e penultimo pacchetto abbiamo De Rossi della Roma che non ho Flocari della Spal che questo non ce l'ho Diego Falcinelli del Sassuolo pure questo è nuovo poi la carta che sfortuna poi abbiamo tre giocatori del Palermo e un altro allenatore che è Pecchia e questo mi sembra che ce l'ho ancora carta speciale per noi due allenatori in questo pacco opening più lo scudetto del Genoa vediamo un po' proviamo Centurion del Genoa che è a doppione anche Pandef del Genoa che è a doppione Cagliardini invece dell'Inter è nuovo poi abbiamo che sfortuna Novara che mi sembra che la squadra non dovrei averla e di nuovo lo stadio del Napoli e questo ce l'ho a doppione quindi stiamo andando avanti andando avanti sempre di più abbiamo sempre più doppione appunto spero che faccio qua i saluti devo prima cambiare inquadratura vabbè ci vediamo nella prossima inquadratura bene per questo video è tutto abbiamo trovato come avete visto allenatore dell'Atalanta quindi carta speciale anche stadio dell'Atalanta che è più raro da trovare allenatore del Verona quindi nuova carta speciale stadio del Napoli che è più raro da trovare ma ce l'ho già anche stadio della Roma però questo non ce l'ho e anche lo scudetto del Genoa che è raro proprio da trovare però e quindi anche questo non ce l'ho spero che vi sia piaciuto se è così iscrivetevi e lasciate un like ci vediamo ciao a tutti